Musica Escono la mattina, salutano mogli, mariti, fratelli, sorelle e a casa non fanno più ritorno. Hanno età diverse, abitano in diverse zone d'Italia, non hanno nulla in comune a parte la causa della loro morte. Sono morti per il diritto di lavorare. E noi, noi ci indigniamo, facciamo campagne di sensibilizzazione, a volte serriamo i controlli. Ma di fatto i numeri raccontano un quadro completamente diverso, un quadro, possiamo definirlo così, inaccettabile per un paese civile. Noi qui non vogliamo assolutamente abbassare la guardia, cara Gabriele. E infatti bentornati a Siamo Noi, comincia oggi la nuova edizione del nostro programma, grazie a voi che ci seguite da cinque stagioni. E allora abbiamo deciso che volevamo cominciare con un tema importante appunto, un tema doloroso, un tema fondamentale, come dicevi tu Massimiliano, per il nostro paese, soprattutto Repubblica Democratica fondata sul lavoro, come recita la Costituzione. E allora ad incidenti, di morti sul lavoro, parleremo con gli ospiti che sono già qui con noi. Do il benvenuto innanzitutto a Don Beniamino Sacco, parroco della Chiesa Spirito Santo di Ragusa. Ben arrivato. A Sandro Simoncini, direttore del Centro Studi Sogea, che si occupa da tanto di sicurezza sul lavoro. Benvenuto anche a lui e benvenuto a Claudio Casale, dell'Anni, l'Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Ben arrivati tutti. Ma prima di coinvolgere i nostri ospiti andiamo fuori da questo studio, andiamo in una delle tante realtà lavorative che devono fare i conti con incidenti e decessi. Allora la linea va al nostro Vito De Torre, che si trova dove? Dove sei Vito? Ben arrivato. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Taranto. Alle mie spalle quella che è la direzione amministrativa dell'ILVA, questo colosso siderurgico che ha sede qui a Taranto. Accanto a me i lavoratori, un gruppo di lavoratori dell'ILVA, qui il problema della sicurezza sul lavoro è un problema drammatico. L'ultimo incidente mortale è avvenuto a luglio. Quest'estate un ragazzo, un gruista, è caduto appunto dalla gru per un incidente sul lavoro ed ha perso la vita. Permettetemi di iniziare questo collegamento però chiedendo con la testimonianza di Amedeo Zaccaria, che è il papà di Francesco Zaccaria, un ragazzo di 29 anni che sette anni fa, proprio sopra una gru, ha perso la vita. Ha perso la vita il 28 novembre del 2012. Buon pomeriggio e benvenuto a Siamo Noi. Non su una gru, proprio sulla stessa gru. Non sulla gru. Sulla stessa gru. Perché la sicurezza sul lavoro qui all'exILVA di Taranto sembra un optional. La morte di mio figlio è dovuta al fatto che lavorando su delle gru anti-uragano, perché ribadisco che le macchine interessate in queste tragedie sono macchine anti-uragano, per cui con i loro dispositivi di progetto garantiscono la sicurezza dell'operatore qualora si dovesse trovare in quelle condizioni proprio sulle macchine. Il 28 novembre del 2012 Taranto viene interessata da una violenta tromba d'aria. Non era la prima volta che accadeva. Francesco, il figlio di Amedeo Zaccaria, si trovava a 60 metri d'altezza su questa gru. Gru che doveva avere i dispositivi di sicurezza, quindi un sistema di blocco della cabina, proprio in caso di tromba d'aria. Questi sistemi però? Sì, esatto. Questi sistemi in particolare... Erano attivi? No, no. Anzi, noi parliamo di dispositivi di sicurezza manomessi. Praticamente la trave che doveva reggere l'impatto della cabina della gru non era conforme a quella di progetto della macchina. Quindi questa cabina si sfila dai binari dove era allocata e cade dall'altezza di 60 metri. E cade a mare dall'altezza di 60 metri. In più il dispositivo antiuragano che doveva garantire il fermo della cabina era stato proprio rimosso dal suo posto. Per cui anche se i gruisti sapevano dell'esistenza di questo dispositivo, Francesco non l'avrebbe potuto inserire perché era stato tolto. C'era un pulsante da spingere, non c'era il sistema, ma anche se l'avesse spinto non avrebbe mai funzionato. No, no, no. Precisiamo che non era un pulsante, ma era una leva da inserire in una sede apposita. Però questa leva era stata tolta e il foro dove doveva andare a inserirsi lo spinotto era stato chiuso. Cioè era stato proprio azzerato come dispositivo, non c'era niente. E la trave era stata manomessa, non era come quella di progetto. Dicevamo che purtroppo a luglio è accaduta una tragedia sostanzialmente identica. Accanto a me c'è Comisimo Semeraro che è il presidente del comitato del 12 giugno. Io le chiedo semplicemente di darci dei dettagli sui numeri. Perché dire semplicemente che è un tema drammatico non descrive la situazione effettiva. Cioè di quante morti bianche, di quanti infortuni mortali sul lavoro qui all'Ilva parliamo. Allora purtroppo noi qui nell'Ilva di Taranto noi parliamo di più di 500 morti per infortunio. Da quando è stata ammessa la prima pietra. Che ci sono numeri di persone che non stanno nemmeno nell'elepo. Io ho un elenco solamente di 200 persone. Ma 500 persone comprese anche le malattie? No, solamente infortuni. Queste sono purtroppo il numero astronomico di persone che sono morte. Qui ci sono persone che ogni mese morivano due, tre persone, una persona. Ogni mese all'inizio siamo nell'assurdo dell'assurdo. A parte le malattie d'amiando, che le malattie d'amiando sono più di 200. A parte... Senta, un'ultima, mi perdoni se la interrompo, una battuta brevissima. Erano morti che si potevano evitare. Come no? Io me la prendo con lo Stato. Lo Stato sapeva che l'amiando era cancherogio dal 1900. Anche gli infortuni del suo lavoro, lei dice, potevano essere evitati. Sì, come no? Se ci mettono a primo posto la salute e la sicurezza degli operai, non il profitto, tante vite umane si possono salvare. La ringrazio, la ringrazio, restituiamo la linea allo studio. Poi torniamo ovviamente qui a collegarci da Taranto per dare anche voce a questi lavoratori che, come dire, rischiano, ogni giorno rischiano. Qualcuno di loro prima diceva che è una roulette russa. Grazie Vito, grazie Vito, torneremo presto da voi. Don Beniamino, abbiamo con queste testimonianze immediatamente centrato il tema che è una riflessione sul valore della vita. Perché provoca un grandissimo dolore, ma provoca anche tanta rabbia, pensare di salutare un padre, una madre, un marito e non vederlo rientrare a casa. Semplicemente perché è andato a guadagnare il pane. Io guardando gli occhi e la faccia di questi papà, io sono costretto a raccontare, no? Chissà cosa c'è dentro il cuore, dentro l'anima, dentro la vita che scorre, continua a scorrere, ma con quel dramma sempre davanti agli occhi. Il lavoro. Forse hanno ringraziato Dio quando hanno avuto i figli e la possibilità di lavorare. Perché lavorare oggi è un diritto che non è di tutti. Io ho un'agenzia privata, non è né statale né provinciale, provinciale e privata, nel senso che è una parrocchia che si fa agenzia del lavoro. Per cui c'è una sfilza di nomi, tutte richiedendo lavoro. Quanti avrà in... Ne avrò un 500, 600, una cosa di questo genere, no? Gente che viene a dire, padre e begli amici, un lavoro ce lo cerca? E sapete com'è difficile trovare lavoro? Una volta è venuto un giovane e mi ha detto, padre io esco dalla galera, me lo vuol cercare un lavoro, non sono stato capace di trovare un lavoro. Lui è venuto e mi ha detto, padre, l'ho capito, devo tornare in galera. Che drammatico. Quanto poi avvengono queste tragedie, è un parroco, un sacerdote che vive tra la gente e a un certo punto deve sentire anche la notizia, sa mio figlio è morto cadendo da un impalcatore. Per il lavoro. Oppure, sa, mio figlio è morto entrando in una botola dove c'erano dei gas, eccetera. Tu allora rimani e dici, ma com'è possibile, no? E lì ci sono genitori che soffrono, mogli che soffrono, bambini che soffrono. Per cui il discorso della morte è legato al lavoro, alla dignità di lavoro. Perché non basta dire io ti do il lavoro. Bisogna rispettare la sacralità della vita. Ecco, su questo appunto io volevo chiederle proprio ciò. Ma si può lavorare a tutte le condizioni? Cioè si può accettare tutto proprio per quel lavoro che manca? Guardate un po', io riflettevo per esempio su quei genitori che hanno dimenticato i bambini nelle macchine. E sono morti, no? Diversi, al nord e al sud. Il lavoro quando diventa violenza permanente. E la violenza è subito, alla volta a volta. Per cui quello è costretto a fare degli orari straordinari, no? Pur di affermarsi, a un certo punto avviene una dissociazione. Cioè quell'uomo non riesce più a capire dov'è, cosa sta facendo o chi sta lasciando nella macchina. Le tragedie sono queste. Non basta avere un lavoro. Bisogna dare la dignità del lavoro e bisogna rispettare la dignità della vita. Se l'abbinamento lavoro-vita si dissocia, noi abbiamo la violenza in nome del lavoro. Coinvolgo anche gli altri nostri due ospiti, Simoncini e Casale, perché colpisce quello che ci sta dicendo Don Beniamino, colpiscono quei dati che ci sono arrivati da Taranto. 500 morti solo per infortuni, oltre a tutte le altre morti che conosciamo. Poi c'è quell'aggettivo bianche che toglie quasi realtà alle morti, come fossero morti fantasma. Ma in realtà queste sono morti che possono, devono essere evitati. Lo domando ad entrambi. Diciamo che affrontando l'aspetto anche meno filosofico, una perdita di un dipendente per un'azienda è una perdita di valore importante, perché magari quel dipendente è una persona preziosa che può portare produttività e reddito. E quindi è fondamentale che l'azienda abbia un approccio diverso verso la sicurezza del suo dipendente. E l'approccio alla sicurezza non sia solamente un costo economico da mettere nella voce di bilancio e per cui da ridurre nei momenti di crisi, ma deve essere una preziosità, una preziosità della risorsa che forse in maniera meno filosofica può sfruttare perché la risorsa umana capace che viene persa... Quindi ti chiedo subito poi i dettagli, anzi entrare proprio in profondità sul tema lo faremo dopo, così convolviamo Casale. Se tu dovessi dire la principale causa di tante infortuni e tante morti qual è? Siamo noi, è la nostra cultura, io lo dico sempre. Una volta vorrei venire qui e parlare di diminuzione di morti, mentre ogni volta sia infortuni che di morti non riusciamo a far scendere il livello. È la nostra cultura, il nostro approccio alla sicurezza, ma anche il nostro personale. Anche chiunque di noi assumiamo una persona a servizio a casa, quanti di noi hanno una persona in regola e quanti ce l'hanno in nero? Quanti si preoccupano che non si tagli con un coltello una mano e quanti... Beh, sarà un problema suo. Cambiamo la nostra cultura, dopodiché ci preoccupiamo di quella delle aziende. Annuisce Casale. Annuisce e tra poco entreremo nei dettagli di Casale perché questo è un fenomeno drammatico. Peraltro stiamo vedendo i numeri che tra poco farò commentare anche a Simoncini. 600 mila infortuni l'hanno, più di mille mortali. E questa è una tragedia, una strage. Certamente. Si vogliono sempre evitare questi infortuni sul lavoro. Perché credo effettivamente che basta fare una prevenzione molto più curata in azienda e fare una formazione pure agli operai. perché delle volte l'operai effettivamente in azienda spesso e volentieri fa cose avventurate, cose che non dovrebbe fare, movimenti che non devono essere ripetuti. Io sono stato vittima di questo incidente. È vero che avevo 25 anni e ho avuto un gravissimo infortunio lavoro che oggi... Ce lo racconto dopo. Perché adesso è il momento di coinvolgere i nostri telespettatori. È ritornato. Il nostro Simone è ritornato. È ritornato Simone. Simone. Allora, è il momento di coinvolgere voi che ci state seguendo in questo momento. Dite la vostra sul tema di oggi. Interagite con noi e fateci un po' avere anche un quadro delle vostre zone, del vostro territorio. Diteci appunto se di decente ci sono stati incidenti sul lavoro. Vi lascio subito i nostri contatti. Mandateci una mail. Siamo noi, chiocciola tv2000.it Il nostro numero whatsapp 348 3070 345 Mandateci un messaggio o un breve vocale oppure chiamateci, lasciate un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 o semplicemente, mi raccomando, venite a trovarci sui nostri social Twitter, Facebook e Instagram. Grazie Simone. Quando lo dici così, non bisogna che scrivere subito. Tutti, tutti risponderanno. Abbiamo bisogno per l'appunto di numeri. Tanto per cominciare, Simone Cini, il 2019. Che anno è stato e soprattutto la situazione come varia da una parte e l'altra dell'Italia? Nord, Sud? Allora, innanzitutto, ogni anno non riusciamo mai ad attestarci a meno di mille morti l'anno sul lavoro. E questi 600.000 infortuni ormai è un dato stabile. Il dato ripartito tra... Mille morti? Io vorrei far riflettere, sono tre al giorno. Tre al giorno. Tre al giorno. Sono tantissimi, fa impressione. Due morti e mezzo ogni 100.000 lavoratori. Sì, è un numero elevato, è un numero elevato. Noi siamo sopra la media europea e le distinzioni non sono per regioni, principalmente tutte le regioni. Centro, nord e sud sono interessate in maniera quasi uguale dagli infortuni e dalle morti. Certo che dei settori più critici come l'edilizia, come le industrie chimiche, sono sicuramente più soggetti ad infortuni e a... Poi c'è da evidenziare tutto un sommerso. Ma c'è un dato che c'è. Quello non viene rilevato? Quello non viene rilevato. Ecco, il sommerso, le partite IVA, il lavoro nero, specialmente nell'agricoltura o nell'edilizia. Lì Don Beniamino, insomma, con la sua battaglia quotidiana contro il caporalato ha parecchio da aggiungere. Ma io mi vorrei soffermare, Don Beniamino mi consenta, su un dato che farà brividire, perché molti di questi incidenti investono, riguardano ragazzi che hanno, anzi bambini, che hanno meno di 15 anni. Questo significa tante cose. 50.000 bambini l'anno sono soggetti ad infortuni sui luoghi di lavoro. 50.000 bambini, considerando che un bambino purtroppo per legge può iniziare a lavorare anche a 14 anni, nelle piccole imprese familiari, imprese nelle quali la cultura della sicurezza probabilmente non è al primo posto. parlo di un bar, parlo di un esercizio estivo. Purtroppo i bambini vengono messi a, destinati a delle funzioni, spesso senza un'adeguata formazione. Formazione che è indispensabile che l'azienda impartisca al lavoratore e al bambino, spesso che non è nemmeno conscio di quello che sta facendo, non viene impartita nessun tipo di formazione. Questo è un dramma nel dramma, no? Simoncini, Casale prima ci stava raccontando la sua storia. Che cosa le è accaduto? Diceva che aveva 25 anni e cosa è successo? Avevo 25 anni e sono stato operario elettrico, elettricista. E mentre svolgevo le mie funzioni di lavoro, facevo i controlli dei macchinari, dei guatri, queste cose, quindi il mio collega stava lavorando sotto un caricatore di bigliette. Io ho passato in quelle parti e lui mi ha chiesto di fornire delle attrezzature per lavorare. Io sono andato in officina, ho preso questi attrezzi e li ho portati. Mentre lui stava lavorando sotto questo caricatore, lui aveva il cancello, cioè il cancello l'aveva aperto e tolto le dispositivi di sicurezza. A me però non me ne aveva detto che questi dispositivi erano stati inseriti. Io sono andato in questo cancello, questa macchina a pistone idraulico si è azionata e quindi non c'è più possibilità di tornare in giro. Lei è rimasto intrappolato nel mezzo, praticamente. Prima di me mi ha trafitto, questa accessoia che è fatta angolare, mi ha trafitto sul lato sinistro e sciso sulla destra. Sarebbe potuto morire, 4 anni di ospedale, se non sbaglio 15 interventi. 4 anni, entro e fuori dalla chirurgia generale di Bari. Lei era anche padre, padre di un bambino che allora aveva pochi mesi. Questa tragedia ha cambiato, ha investito tutta la sua vita e quella della famiglia, immagino. Certo, certo, questo sì. Tanto è vero che io credo che l'infortunio è una cosa molto grave e lo subisce tutta la famiglia, non lo subisce solo l'infortunato. Io da parte mia, a prescindere dall'infortunio, ho dovuto fare difendere per le incorse di causa, perché anche le cause è un'altra tragedia per chi subisce l'infortunio. Perché rivivi tutto quello che tu, del tuo accaduto, del tuo incidente. E questo effettivamente l'ho vissuto e ho iniziato poi da questo infortunio, sono uscito fuori nel modo più migliore, reagendo. Reagendo come? Iniziando a studiare, ricontrollarmi tutte le specifiche dell'infortunio, i diritti delle persone che ho avuto l'infortunio. E così, via di vai, mi sono riprogrammato il mio lavoro. E oggi lei combatte anche per altri? Nel 2000 io ho incontrato questa associazione Amil, che effettivamente mi ha dato la possibilità di entrare nel Consiglio Provinciale come delegato nazionale. Ho capito che si può fare qualcosa per evitare infortuni. E così io effettivamente in questa associazione Amil mi ha dato questa possibilità e la ringrazio. La storia di Claudio Casale è straordinaria, Sacco. Incidente sul lavoro, resta miracolosamente vivo e sente la responsabilità di quello che gli è accaduto, no? È importante. Responsabilità e testimonianza. Ce lo spiegava il suo impegno nell'Ammil. Ma di fatto è la domanda che ci poniamo, di chi è la compa? Che non succeda che dopo ogni incidente c'è un esploat di interventi politici, sindacalistici, eccetera, dopodiché tutto taci. I problemi si affrontano con una continuità di impegno. E l'impegno deve essere totale. Del trattore di lavoro, che non si può permettere il lusso, no? Non di perdere solamente un lavoratore che rende, di perdere una persona. Perché il lavoratore potrebbe essere egoistico. Perdere una persona sta violentando tu la vita di una persona. Ed è terribile questo. Da parte del lavoratore, il quale non deve dire dammi un lavoro purché sia lavoro e non mi interessa del resto. Sai quante volte mi capita? Padre, mi dico un lavoro, io sono disposto a fare qualunque cosa. Non è un modo positivo di rapportarsi al lavoro. Cioè, ci sono delle responsabilità anche di colui il quale lavora. Spesso dice, a me non capiterà mai niente. A me non potrà succedere, perché io ho un'esperienza. Capita anche a quelle persone che hanno esperienza. La collettività nel suo insieme deve cercare di lottare per conquiste. Questa è una conquista sociale. Questo è un obiettivo che dobbiamo raggiungere tutti. E dobbiamo raggiungere non facendo filosofia, ma cercando tutti i giorni, quando noi denunciamo per esempio l'abuso sulle donne nelle campagne. E' un abuso, no, non solamente fisico, ma anche lavorativo. Grazie Don Beniamino di aver esteso, riportato la dimensione collettiva della responsabilità, anche quella del lavoratore che per il diritto al lavoro non può essere pronto ad affrontare tutto. Continueremo a discutere, a parlare delle cause, degli incidenti, delle morti sul lavoro, ma soprattutto come possiamo fare in modo che non si verifichino più, subito dopo la pubblicità. E torneremo a Taranto. Torniamo in diretta qui a Siamo Noi, stiamo parlando delle troppe morti sul lavoro, un fenomeno terribile che non si riesce purtroppo ad arginare. Il primo è che il nostro Semoncini ci raccontava quali sono le principali cause di morte sul lavoro e quali settori più a rischio. Allora, i settori più a rischio sono sicuramente l'edilizia e l'industria. E naturalmente, come dicevo, sparsi in tutta Italia, non c'è un centro nord-sud, sono i settori dove in qualche modo è più facile che succeda l'infortunio che aumentano il numero degli incidenti e di conseguenza i morti. E le cause? Purtroppo, ripeto sempre che è la nostra cultura, perché lo dicevamo adesso, che effettivamente l'infortunio succede nella piccolissima azienda e succede in T-Saint-Rouge. Quindi in qualche modo non è la dimensione che va a incidere. Che fa la differenza. Non è la dimensione che fa la differenza. È la nostra mentalità nell'approcciare la prevenzione come, non come un costo. Viene visto come un costo oggi, no? Oggi viene visto come un costo. Un elemento superfluo quasi. Sì, assolutamente. O se no, magari ne abbiamo fatto una parte, l'altra parte poi la farò, tanto a me non succede, come dicevamo, e poi mi adeguerò, tanto quello è un adeguamento marginale. La faccio in itinere, che poi in itinere noi tra l'altro molti sono anche i casi morti in itinere. Sì, specialmente la formazione, perché con la formazione tu insegni al lavoratore quali sono i suoi rischi. E la formazione, io sfido ogni impresa italiana per aver fatto la formazione e la idoneità alla mansione il primo giorno di assunzione. Ma quello nel primo trimestre magari potrebbe infortunarsi. La formazione l'abbiamo fatta il primo giorno, come una visita per idoneità alla mansione. Magari quel cristiano non ci vede e tu lo metti a fare un lavoro che potrebbe creargli un danno proprio da lì. La formazione l'abbiamo messa al primo posto, quindi rivoluzionare e cambiare un'intera cultura del lavoro. Ma torniamo a Taranto, Davito De Torre, perché quello è proprio il luogo simbolico per eccellenza quando parliamo di sicurezza e purtroppo di incidenti sul lavoro. Vito, a te. Sì, eccoci di nuovo da Taranto con i lavoratori dell'ILVA. Accanto a me Biagio Prisciano della FIM CISL. Ecco, è un tema questo che ovviamente a voi preoccupa moltissimo. Dicevamo prima in apertura, l'ultimo infortunio mortale è accaduto a luglio, un gruista. Però sono veramente tantissime le denunce che fa delle malattie professionali proprio all'interno dell'acciaieria. Ma le nostre RSU e le nostre RLS sono ogni giorno ovviamente all'interno della fabbrica. Ed è chiaro, proprio a IMA noi abbiamo fatto una serie di denunce per cui anche alcune gru sono state fermate. Perché quando ovviamente facciamo una denuncia invitiamo non solo all'interno dello stabilimento gli enti ispettivi, ma fra l'altro denunciando anche le problematiche dell'impianti. È un tema molto caldo, io credo che bisogna porre la giusta attenzione. Fra l'altro la legge già dà uno strumento che è l'81. L'81 se ovviamente rispettato, ed ecco perché quando poi succedono gli incidenti bisogna innanzitutto andare a vedere chiaramente se ci sono colpevoli e se ci sono è chiaro che se uno ha sbagliato deve pagare. Cioè deve pagare, ci deve essere la certezza della pena, altrimenti poi il fatto che comunque anche alcune volte magari ci sono questioni per cui poi si rimanda, si rimanda e si rimanda. I processi che riguardano questi infortuni sui lavori sono processi che vanno avanti da tantissimi anni. I processi sono molto lunghi. Quando si sbaglia su un qualcosa non si può essere lasciati al caso. Bisogna chiaramente, perché se qualcuno ha sbagliato deve pagare, deve pagare di fronte a un qualcosa che non ha funzionato come doveva essere. Voi lavoratori entrando proprio la mattina quando entrate a lavorare nello stabilimento entrate con la paura, con la consapevolezza che l'azienda potrebbe fare di più che per la logica del profitto magari si risparmia sulla vostra sicurezza. Qual è il vostro stato di amico nel momento in cui voi poi entrate nello stabilimento? No, l'azienda non è che potrebbe fare, l'azienda deve fare di più. L'azienda, tutto quello che è il piano di investimenti, deve applicarlo fino all'ultimo centesimo. Ovviamente noi siamo sempre a controllo, così come le manutenzioni degli impianti che devono essere sia di natura ordinaria e straordinaria. Anche perché in questo stabilimento non è che si fanno cioccolatini, insomma, per intenderci. È uno stabilimento complicato e pertanto non ci può essere il profitto davanti alla vita di un lavoratore. La vita di un lavoratore è la prima cosa. C'è un lavoratore che entra la mattina in questa fabbrica, deve entrare, deve fare il proprio lavoro e deve tornare a casa, deve tornare dalla propria famiglia. Non deve avere l'angoscia. Assolutissimamente no. Ecco, purtroppo Massimiliano e Gabriella, noi abbiamo parlato, ovviamente l'abbiamo detto in apertura, siamo alle nostre spalle, c'è proprio l'ilva di Taranto, ma qui in Puglia si muore anche nell'agricoltura, si muore anche nei campi. Accanto a me c'è Valeria D'Autilia, che è una collega, una giornalista della stampa. Tante volte si è occupata di queste vicende, non solo dell'ilva, ma anche di morte mentre si sta nei campi. È pazzesco, è così. Ricordiamo Paola Clemente. Assolutamente sì, è così. Buon pomeriggio. In Puglia si muore in fabbrica, si muore nei campi. Facevi riferimento all'episodio che ha riguardato Paola Clemente nel 2015, morta, stremata dalla fatica, da un malore, mentre era sotto un tendone per la raccolta dell'uva. Soltanto l'anno scorso, 16 braccianti morti in due incidenti stradali a distanza di poche ore, sui furgoni dove viaggiavano ammassati, rientravano dai campi, dalla raccolta di pomodori. E' emblematico considerare proprio questo, l'assenza di garanzie, di sicurezza, pochissimi controlli. E' proprio l'inchiesta sulla morte. C'è un filo comune che è l'illegalità. Assolutamente sì, filo comune l'illegalità, ma anche il precariato, perché questi sono tutti lavoratori stagionali. Quindi lavorano per pochi mesi e si adattano a questo tipo di condizioni. E proprio l'inchiesta sulla morte di Paola Clemente ha dimostrato questo, ovvero parliamo di lavoratori, donne, ma anche padri di famiglia che avevano necessità di mantenere i loro figli. E tra questi c'erano anche tanti ex lavoratori dell'ILVA. Ecco, tante volte i lavoratori nei campi vengono scelti anche in base alla loro, mi passi il termine, affidabilità. Sono i lavoratori che non alzano la testa, che non chiacchierano, che non raccontano le loro reali condizioni. I sindacati invece vogliono denunciare. Anche oggi la vostra presenza qui è fondamentale, proprio va in questa direzione. Questi fatti vanno denunciati, bisogna gridare la sicurezza. Certamente, questi fatti vanno denunciati con forza. Alcune questioni che sono di una certa importanza non possono essere messe sotto al tappeto. È inconcepibile che un ragazzo di 29 anni muoia su una gru. Anche perché di fronte a una tragedia del lavoro siamo tutti perdenti, siamo tutti sconfitti. Significa che non ha funzionato qualcosa. Un lavoratore che entra nella fabbrica deve poter tornare a casa. Non esiste il profitto prima di che cosa? C'è prima la vita di un lavoratore, altro che il profitto. E quando ci sono problematiche all'interno bisogna denunciarle, che siano di natura basso o che siano di natura complessa. Ma bisogna denunciarlo all'RSU, all'organizzazione sindacale, all'RLS, nelle nostre sedi opportune. Bisogna farlo. Grazie, grazie mille ai lavoratori, grazie mille alla collega Dautilia. È tutto qui da Taranto. Grazie Vito, torneremo a Taranto. Grazie Vito, grazie ai tuoi ospiti. Ho sentito due parole in questo collegamento profitto e dignità, sulle quali vorrei riflettere tra poco. Don Meniamino, però prima andiamo da Simone. Sì, ci stanno scrivendo in tanti, cominciamo da Maria. Il lavoro dona dignità all'uomo, ma spesso per il lavoratore è disposto a tutto, anche a sottovalutare l'importanza della sicurezza. Angelo, purtroppo la sicurezza sul lavoro è un tema molto attuale. Il mio pensiero va a quel papà che ha perso il figlio e a tutte le persone che dovrebbero essere tutelate e invece non lo sono. Sicurezza e controlli dovrebbero essere la priorità di un'azienda, ma oggi purtroppo non è così. Paolo Dallapuglia. Il servizio a Taranto mi ha scioccato, i numeri mi hanno scioccato. Sono davvero indignato, tutti dovremmo esserlo. Una cosa è certa, non si può morire sul lavoro. E chiudiamo con Giulia che dice Scusate, ma quando si parla di prevenzione, le aziende dove sono? I controlli dove sono? Dove sono i controlli? Questa è una bella domanda. Don Meniamino, però io vorrei ritornare a quelle parole. Ha sentito le rivendicazioni degli operai dell'Exilva. Parlavano di dignità del lavoro, parlavano di profitto, ma non è che oggi il profitto prevale sulla dignità della persona? E la causa è quella che abbiamo raccontato? Io dico che il profitto ci vuole, nel senso che un'azienda deve andare avanti anche. Diventa violenza quando tutto è misurato col profitto. Oggi ho letto su avvenire un titolo Facciamo un minuto di silenzio per le vittime sul lavoro. Io sono contro i minuti di silenzio. Facciamo rumore? Sono anche contro le preghiere. No, facciamo una pregherina e ci mettiamo la coscienza a posto. Le preghiere servono, però. Bisogna, scusate, sogno un parrino. Sono pronti, quindi. Il discorso è la denuncia. La denuncia. Ci dobbiamo mettere la faccia. Cioè non possiamo noi fare i discorsi accademici, no? Che magari creano commozione, tutte queste belle cose. Poi bisogna sporcarsi la faccia e le mani. Nel senso che bisogna rischiare per raggiungere determinati obiettivi. Altrimenti, perciò, si può parlare di mafia, si può parlare di violenza, di lavoro nero e tutte queste belle cose. Questo è davvero importante, Don Beniamino Casale. Il 13 ottobre in tutta Italia, da nord a sud, si svolgerà la 69esima edizione della giornata per le vittime degli incidenti del lavoro. Proprio in attesa di questo 13 ottobre vorrei chiederle che messaggio si sente di rivolgere, alla luce della sua esperienza, dell'impegno in Anmila, a un giovane lavoratore? Diciamo, a un giovane lavoratore c'è il messaggio mio che quando vanno al lavoro di andare un po' più piano sulla macchina in quanto per raggiungere il luogo di lavoro le volte partono sempre in ritardo perché magari loro la sera rientrano tardi della notte non alzandosi nel modo più prima per andare al lavoro loro corrono in macchina e vanno incontro agli infortuni di tine che delle volte non è sempre loro responsabilità. Perché sono tantissimi gli infortuni di tine. Sì, gli infortuni di tine. Effettivamente loro per correre, per arrivare prima, per l'orario creano questo infortunio. Il percorso da casa, il luogo di lavoro si è rivelato fonte di tantissimi incidenti mortali. Anche se delle volte non è sempre loro responsabilità anche delle volte hanno ragione però la prudenza su strada è la cosa più importante. Io facendo l'operatore patronato che tratto parecchie infortuni di lavoro e delle volte proprio i giovani quando prendi questo infortunio vado a capire che delle volte forse la velocità ha causato, forse la poca correttezza. La prudenza è anche, come dire, chiedere i propri diritti quando poi si è sul lavoro si arriva e si fatica perché questo è poi l'importante. Il 13 ottobre si celebra la 69esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Prima vedevate anche il numero verde dell'ANMI al quale potersi rivolgere. Cara Gabriella. Siamo partiti dai diritti ai diritti. Torniamo come parola. Questa è la parola più importante qui oggi. Grazie ai nostri ospiti. Torniamo puntuali domani alle 15.20. Vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.